allora ragazzi stiamo rompendo il ghiaccio forse no fermo alessandro è fermo noi faremo un video interattivo sarete voi a decidere con il vostro mi piace se rompere o non rompere il ghiaccio attenzione un attimo vi do alcuni secondi dopodiché se potrete mi piace romperemo il ghiaccio o no si votate mi piace per rompere il ghiaccio no per non rompere il ghiaccio pausa bene ragazzi avete votato mi piace e quindi il video prosegue con la rottura del ghiaccio vai ale rompe il ghiaccio il primo video interattivo ragazzi con il vostro voto avete deciso le sorti del video grande grande effetto ragazzi voi votate e alessandro esegue vai alessandro rompi il ghiaccio rompi il ghiaccio hanno votato da casa alessandro fai vedere che sei in grado è rotto faccio vedere madonna ragazzi guardate è un bambino è piccolo ma guardate che cosa sta facendo pazzesco ragazzi vaiale madonna ragazzi non me li dà in testa quelli hanno votato mi piace hanno votato per dare in testa a papà dai alessandro dai dai buttate dentro la fontana attestate rompi il ghiaccio attestate dai 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 buttate dentro alessandro sai se ti butti dentro quanti mi piace prendiamo fa un sacco di soldi dai buttate fai una notatina dai ma che davvero buono fermate fermate oh oh basta 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 basta